Amici di Corsi di MotoTV, siamo al Piero Taruffi di Vallelunga dove questo weekend andrà in scena il secondo appuntamento stagionale del Virus Power National Trophy, ovviamente categoria 600, questo è il 35-70.it round, qualifiche, gara, ci sono diversi piloti in lizza per la vittoria, abbiamo già visto a Misano, c'è Marche Luzzo, ma ci sono Lidotti, Cottini, Colletti, tanti piloti in grado di dar battaglia, quindi andiamo a vedere come sono andate le Q1, le Q2, poi sulla griglia Highlights e tutti i vinciti. I vincitori e i protagonisti di questa tappa romana. Sul circuito Piero Taruffi di Vallelunga, con la sessione delle Q2, sono andate in archivio le prove decisive per lo schieramento di partenza, valido per i 10 giri della gara di domenica 28 aprile, seconda prova stagionale del Virus Power National Trophy 600. A partire dalla Panta Racing Full Pole Position, con il crono di 1 minuto 40 secondi 639, sarà Marco Marche Luzzo, con la Kawasaki del team Black Flag Motorsport. Secondo e terzo tempo, a tre decimi, per le Kawasaki di Andrea Bolognesi e Michael Coletti. Due posto due, Marco, mi sembra un National 600 iniziato nel migliore dei modi. Hai continuato a creare lunga il lavoro che ha iniziato a Misano. Sì, siamo veramente molto contenti perché ci aspettavamo un campionato con una partenza così, però poi chiaramente farlo è sempre un'altra cosa. Siamo partiti bene a Misano, qui abbiamo replicato facendo a sabato la pole, vediamo di fare bene anche domani. Devo dire che questo schieramento, questa starting grid qui a Vallelunga è un po' differente con il Misano perché in 5 siete in 4 decimi. Quindi se a Misano magari psicologicamente partivi, non dico tranquillo, però sapendo di avere un qualcosina, qui dovrai tenere d'occhio non uno, non due, ma ben tre avversari. Assolutamente vero, infatti abbiamo analizzato prima i tempi di tutti quanti e praticamente abbiamo visto che comunque a livello di passo e comunque di tempo su giro effettivamente siamo tutti molto vicini. Quindi domani c'è assolutamente da fare una bellissima strategia, altrimenti i giochi si fanno difficili. E poi c'è da dire Marco che laddove la vittoria arrivasse dopo una gara in bagarra o comunque in gruppo dà sempre più soddisfazione che la vittoria in solitaria. Ci mancherebbe assolutamente, l'importante è vincere però poi alla fine... No, adesso ti intendo che l'importante per te chiaramente sia il mio posto, però io dico per lo spettacolo, anche per la suspense del campionato è bello quando c'è lotta. E noi siamo molto contenti di vedere che non sei davanti, là solo davanti, ma ci sono piloti del tuo livello che possono darti filo da torcere. Sì, hai proprio ragione, infatti a Misano avevamo visto, come dicevi prima, distacchi più importanti, ma soprattutto sul passo, neanche sul tempo secco. E invece qui ci sarà da lavorare bene domani, ci sarà da faticare, però siamo qui apposta, quindi non è un problema. Allora, visto che questo è chiaramente registrato e lo vedremo settimana prossima, qui ti puoi un po' sbilanzare, non ti sente nessuno, di quei tre piloti lì. Chi è quello che proprio quando ci pensi dici, quello lì potrebbe essere un po' una bega? No, in realtà, veramente come ho detto anche nell'intervista in diretta prima, non lo so, perché sono poi tutti animali da gara fatti a modo diverso e quindi di solito il sabato non si vede mai chi è il più performante in gara, almeno nel nostro campionato. Diciamo che Colletti e Bolognesi hanno tanta esperienza, è passato adesso Colletti, a dispetto di un Dotti molto più giovane, quindi quelle sono due vecchie volpi, Dotti magari un po' più aggressivo, ma ha un po' di esperienza di meno. Sì, è vero, loro due sono veramente delle vecchie volpi, quindi domani devo stare molto attento. Dotti però, a dispetto di Misano, non so se sia stesso livello in questa pista, forse è un po' più in difficoltà perché magari ci ha girato meno. Adesso così non vorrei tirarmela perché magari domani vince con dieci secondi di distacco e sarei felicissimo solo per lui, non per me. Però vedo sì, in effetti, forse loro due quelli più in lizza per la vittoria. Chiudo dicendo Marco che l'importante più che mai, guardando il parterre di avversari, è che è un campionato che secondo me non ammetterà errori. Cioè si può fare secondo, si può fare terzo, si può fare financo quarto, ma lo zero è da evitare proprio nel modo più assoluto. Spero che con questa affermazione tu non ve l'abbia tirata, ma assolutamente no, non bisogna fare zero. Siamo tutti molto vicini, il podio di Misano è simile ai primi tre di questo sabato, quindi il punteggio che vedremo per fortuna solo domani sera sarà molto ristretto. Ciao Marco, in bocca al lupo. Ciao, crepi il lupo. Ciao a tutti. Sali altissimo, un rumore dei motori, si spengono i semafori, è partito il virus power, il santrofice di Cento, qui da Vallelunga è partito a Fionda, Marco Marcheluzzo, dietro forse Andrea Campaci, quello che è scattato meglio del gruppone. Si incitano i piloti, si fanno gesti ma arrivano alla curva del semaforo con Marcheluzzo e Campaci in testa, dietro Andrea Bolognesi a comandare il gruppo degli inseguitori. Qui la staccata del tornantino, zona negli anni, palcoscenico di sorpassi e controsorpassi, Marcheluzzo con Andrea Campaci alle sue spalle, poi Andrea Bolognesi in seguito dal gruppone, Marcheluzzo sta provando, incitato anche dal muretto box, ad imprimere con il suo ritmo un passo gara insostenibile per tutti. Infatti ha preso un po' di spazio su Andrea Campaci, proprio Marco Marcheluzzo in sella alla Kawasaki del team Black Flag Motorsport. Dal muretto si dice alza il ritmo Marco che bisogna staccare Campaci che rimane comunque incollato alla cava di Marcheluzzo, mentre Bolognesi e il gruppone si avvicinano leggermente ai due di testa, ma Marcheluzzo col passare dei giri riesce con il suo passo gara a prendere quel vantaggio che dovrebbe permettergli di arrivare negli ultimi chilometri di gara col vantaggio necessario. Qui c'è l'attacco all'ultimo giro di Gabriele Cottini su Andrea Bolognesi, bandiera scacchi e transita per primo davanti a tutti Marco Marcheluzzo, Campaci secondo, terzo Gabriele Cottini. Questo è il podio della 600 a Vellunga, andiamo a sentire i piloti a caldo nel parco chiuso. E a vincere, a vincere, quindi uscire a punteggio pieno da Vellunga e Marco Marcheluzzo, farti i complimenti, una gran bella gara, le hai tenuti tutti a bada, un bel ritmo, soddisfatto? Molto soddisfatto, ciao a tutti, grazie per i complimenti e questa gara sono riuscito a gestirla bene. Non credevo di partire subito così bene, invece mi sono trovato davanti e poi ho provato a imporre il passo del 41 basso, vedere se riuscivo a tenerli dietro e ci sono riuscito fortunatamente. E come a Misano, la domanda è la stessa, avevi ancora un po' di margine o insomma eravamo un po' in piccatini? No, avevo ancora un po' di margine ma volevo tenerlo perché ho avuto tutto il weekend un problema all'avambraccio, che quando spingo troppo mi si gonfia e perdo sensibilità, quindi me lo sono tenuto per evitare di andare a far malanni. E poi lo so che voi piloti non guardate queste cose, ma noi le guardiamo, colletti fuori, doti indietro, quindi una bella classifica si prospetta. Sì, non lo so, cioè cos'è successo? Colletti fuori? Colletti fuori, doti long lap, quindi ovviamente è arrivato un po' indietro, quindi hai guadagnato un po' di punti, un po' di vantaggi in classifica. Bene, bene, adesso mi fa piacere saperlo, adesso però andiamo in una pista dove non ho girato molto, che non conosco bene, ma avere un po' di punti di vantaggio fa sempre bene. Bravo Marcheluzzo, bravo! Grazie, ciao a tutti! Allora chiamiamo qui Andrea Campaci, secondo, partiva non dalla prima fila, non partiva benissimo lo schieramento, ma allo spegne i semafori sei partito avendo una fionda, guadagnato posizioni, poi ti sei messo lì, è mancato qualcosina per disturbare Marcheluzzo fino alla fine? All'inizio ce l'avevo per star con lui, poi ho fatto un errorino, ho perso un po' di spazio e basta, è finita lì. Però diciamo che rispetto a Misano, gara sempre di testa con il primo lì a meno di un secondo per quasi tutta la gara, credo che faccia morale in vista di Cremona. Sì certo, poi abbiamo girato poco questo weekend, giovedì non l'abbiamo fatto, venerdì un solo turno, fino a ieri pomeriggio avevamo un po' di problemi e quindi va bene così. Quindi è come una vittoria Andrea? No, però va bene. Però sono 20 punti pesanti? Eh sì, sì. Bravo Andrea, ciao, ci vediamo a Cremona, arriva Cottini, terzo, riesci a mettere i piedi sul podio, finalmente una bella gara, finalmente. Rafforzi la classifica, la incrementi, ma soprattutto avevi Marcheluza e Campaci veramente sotto i due secondi, quindi eravamo arrivati. Eravamo arrivati, purtroppo ho avuto un po' di problemi con i freni agli ultimi giri e facevo fatica nelle frenate forti. Nelle frenate forti non riuscivo a farla fermare, quindi facevo fatica. Dopo Bolognese ho visto che potevo passarlo nell'unico punto al tornantino, con poco freno ho lasciato e l'ho passato. So contento perché dopo tanta sfortuna, tanto... cioè siamo sul podio, ce lo meritiamo tutti, ringrazio tutta la squadra, ringrazio tutto il Black Sheep, tutti gli sponsor che mi danno la mano, Lodo Vicky e Sice che sono i miei sponsor da anni e faremo una grande festa a casa dopo tanto. Faremo una grande festa ma direi che anche in ottica campionato, in ottica stagione questa prestazione ti carichi psicologicamente e moralmente. Sì, ora andremo a Cremona, purtroppo una pista da me sconosciuta, saremo sabato e domenica prossima a provare e ce la metteremo tutta per stare lì in mezzo a questi verdoni con la mia Yamaha. Bravo Gabriel e bravo la tua R6, ciao! Grazie, alla prossima! Debuto spettacolare a Vallelunga per il National Trophy Italian Sport Bike. Nella neonata serie la prima pole position è stata siglata da Davide Conte su Yamaha R7. Al suo fianco Nicola Schepis su Aprilia RS660 e terza piazza per Cristian Stringhetti, a sua volta su Yamaha R7. Al via, partenza regolare di tutto il gruppo, ma già alla fine del primo giro, colpo di scena, con Schepis, che sicuro protagonista della gara, scivola l'ultima chicane. I dieci giri si risolvono così solo negli ultimi metri, quando Stringhetti riesce a beffare, con un paio di sorpassi, Conte ed Arliano. Sentiamo, subito dopo il podio, il pilota del... E' andato in archivio con un garone incredibile, la prima del National Trophy Italian Sport Bike, vincitore Cristian Stringhetti. Cristian, un garone! Sì, è stata una gara emozionante, molti sorpassi, ho usato un po' di testa perché ci vuole anche quella in bagarre e ha portato i suoi frutti, dai. Ho visto Conte ed Arliano, tra l'altro Conte che nelle prove era andato fortissimo, invece è venuto fuori alla gara di gruppo e dicevo con il tuo team manager Roberto Adami, sei stato proprio bravo perché hai tenuto le carte coperte fino alla fine, nell'ultimo giro, pam! Sì, sapevo che non ne avevo di più degli altri, quindi sarebbe stato molto difficile scappare, quindi ho giocato al meglio le mie possibilità e ha funzionato. Sinceramente, dopo le qualifiche, Cristian, sei stato veloce il venerdì, sei stato comunque veloce il sabato, ma t'aspettavi di poterti giocare la vittoria contro Conte? L'obiettivo è sempre vincere, però l'obiettivo diciamo realista era al podio perché sapevo che Conte era molto veloce, più di noi, però abbiamo vinto. Bravo Stringhetti, vincitore della gara più bella di giornata qui all'apertura della Coppa Italia 2024, team rosse nero, ci vediamo alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!